Continua ad allenarsi dal ritiro di Chianciano Terme la Virtus Franca Villa, doppie sedute quotidiane, una al mattino e una al pomeriggio, prevista soltanto una mezza giornata di riposo per la domenica dove i Biancazzurri potranno rilassarsi ma soprattutto ricaricare le pile in vista di una nuova emozionante settimana. Soddisfatto intanto il tecnico Bruno Trocini che direttamente dal ritiro di Chianciano Terme ha parlato di come i Biancazzurri stiano vivendo questa particolare preparazione per il campionato. Stiamo lavorando bene, il gruppo in gran parte si conosce, c'è qualche ragazzo nuovo che non avrà alcuna difficoltà ad ambientarsi perché i ragazzi li hanno accolti benissimo, qualcun altro va ad arrivare, stiamo lavorando nella maniera giusta, con lo spirito giusto, vogliosi di far bene.